Allora, di che gruppo si tratta? È un coro gospel molto rinomato per chi è stimatore del genere musicale. Ovviamente noi con l'amministrazione comunale, ed io nello specifico come assessore alle attività produttive, proprio nell'intento di far arrivare persone a Nola, di far scendere e coinvolgere quanti più cittadini possibili e per dare sempre più una collaborazione o uno sporone al commercio abbiamo deciso di invitare questo coro a partecipare stamattina. Avremo anche delle altre iniziative che purtroppo per il cattivo tempo non abbiamo potuto svolgere nei giorni precedenti, sono state spostecipate per cui avremo opportunità di vedere degli altri. C'è ancora una settimana di tempo? Abbiamo ancora una settimana, ma abbiamo poi una bella cosa per bimbi e per adulti che si svolgerà il giorno della Befana, quindi il 6 mattina ci saranno degli artisti di strada molto bravi ad allietare i bimbi e gli adulti. Quindi cerchiamo di far arrivare persone a Nola. Li invito a tutti quanti a partecipare, a spendere a Nola, a partecipare e non criticare soltanto. Partecipiamo un po' tutti quanti perché soltanto insieme riusciamo a farcela. Grazie.